15 Antonio Toscano per cercare di sardizzare una gara che si è messa male già fin dall'undicesimo minuto del primo tempo Fabio Parisi sulla sfera lancia lungo, palla che viene intercettata da Andrea Mangiagli che tende il tiro Rete, Rete, grandissimo gol, Andrea Mangiagli, 1-1 pareggia il bomber rosso-blu ex palazzolo Andrea Mangiagli un gol dei suoi al secondo tempo, un gol da Cineteca per il numero 9 Andrea Mangiagli quando siamo giunti quasi allo scadere del gara, un guizzo vincente del piccolo fuoriclasse Andrea Mangiagli si infiamma il pubblico di fede rosso-blu, 1-1 è tutto, si rimette come prima, Atletico Avola ancora in testa al girone a dominare un campionato che ha visto il rosso-blu sempre più protagonisti di un campionato allievi che vedrà la formazione di Michele Battaglia essere l'assoluta protagonista